prego il popcorn è finito odisseo vuoi un lecca lecca forse vuoi una salsiccia odisseo che schifo forse vuoi un po di pasta odisseo no non vuole la pasta cosa vuoi ragazzo mio io voglio che mi rivariate il popcorn siiii sono pronto a preparare i migliori popcorn dei tuoi sogni raffario ecco così perché io sono un professionista che diavolo stai facendo dimor ora vedrete un po di olio e un po di colore ecco mescoliamo le cose ora abbiamo bisogno di un fornello a gas accendiamolo e mettiamo il popcorn direttamente sul fuoco e ora non dobbiamo fare altro che aspettare dimor che diavolo stai facendo guarda quanto sono diventati grandi guardate come sono belli sono più figo di te raffario così la pensi solo tu guarda dimor amici mettiamoci sopra il burro e lo zucchero cominciamo e ora lo zucchero mettiamo il coperchio e aspettiamo che si cuoce raffario sa quello che fa si e vedo che funziona certo amici certo oh ho finito amici guardate il mio 100 volte meglio mettiamo dei marshmallow in cima per decorare e siamo pronti ma buonissimo molto bene amici ma credo amici che vincerò io cosa state facendo ragazzi ho un modo migliore e ora dobbiamo solo aspettare che diavolo sta facendo dimor il nostro è molto megliozaglio guarda 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 ah 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 cosa hai questo odore un'idea, metto sopra del ketchup e della senape, ecco, dai Odisseo assaggia per favore, e adesso amici è arrivato il momento di provare il popcorn, inizierò con quello di stars, cos'è questo, non voglio provare una cosa del genere, come si fa a mettere la senape e il ketchup sul popcorn, beh Odisseo non l'hai provato, prova fratellino, è disgustoso Stas, e ora proviamo il popcorn di Raffario, è un ottimo popcorn classico e dolce, si si Odisseo è la vecchia scuola, e ora provarò il popcorn di lemon, mmm, ottimo, si, di monica, si amico si, mua mua, lo sapevo, mua, e ora voglio gli spaghetti succosi e deliziosi, si sono pronto, ah ah, e ho la pasta pronta qua, apriamo, aggiungiamo le spezie, e versiamo sopra dell'acqua calda, copriamo con il coperchio e attendiamo, questo si chiama barare, io sono già pronto, vi mostrerò io come si prepara il miglior cibo del mondo, guardate, perché si deve cucinare quando c'è già del cibo pronto, ed è anche delizioso, lascia perdere Stas, sei una persona meno professionista qui, ah 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 ah, ho messo la pasta dentro, guardate, ah ah ah, mettiamo tutto nella pentola, five minutes later, ecco fatto amici, mettiamo sopra un po' di senape, ecco così va bene, spero di vincere, bene bene bene, bravo, e io farò la mia pasta fresca, è fatta in casa amici, e ora tagliamo la pasta, gettiamo gli spaghetti nell'acqua calda, e versiamo un po' di colorante, cosa fai Timon, che stai facendo, inoltre ho il blu e il verde, facciamo gli spaghetti colorati, adesso è tutto pronto ragazzi, e devo solo versare il ketchup, fatto, e anche il mio progetto, anche il mio, spero di vincere, prova, mmm la pasta, inizierò con la pasta gelatina, è della pasta vera, ma allora perché è colorata, è terribile ragazze, non vincerò di sicuro, cosa vuol dire Odisseo gelatinosa, è mille volte meglio di quella gelatinosa, e ora proviamo quella di Raffario, molto buono Raffario, mi piace, grazie Odisseo, sono contento, sono contento che ti sia piaciuto, questo cos'è, vabbè provo, mmm, bravo Stas, buona buona, lo so Odisseo, mi sono impegnato molto, hehehe, ho vinto vero? No Stas, mi dispiace, ma mi è piaciuta di più la pasta che vuol dire Raffario, sì, 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 sono il numero uno, e ora amici voglio il cacao, lo voglio dolce con il marshmallow, sì, ci penso io gente, versiamo del latte, e aggiungiamo la nutella, eh, cosa sta facendo, non è male, vero? non male, ma io lo facevo quando ero bambino, figurati, figurati ah, ottimo, apriamo, perché non si apre? Comunque ora versiamo il latte nella pentola Mettiamo tutto il cioccolato all'interno E aspettiamo Mi serviranno degli ovetti Kinder Ma solo il cioccolato Ora metto il cacao all'interno dell'uovo di cioccolato Aggiungo anche il marshmallow L'incollo insieme Adesso verserò lo sciroppo e cioccolato e aggiungerò gli zuccherini E serviamo tutto con il latte caldo E questo cos'è ragazzo mio? Ti faccio vedere io adesso Guarda come lo faccio Lo prendiamo e lo versiamo qui Così così Va bene Prendiamo i marshmallow E li buttiamo dentro Che buon profumo E ora lo mettiamo su un piatto Guardate che bello Oh Raffario guarda l'offatto Oh Raffario guarda Stef Uh Uh Tutto sotto controllo E così che deve essere L'ho fatto apposta Padelli sera Chi è il più bravo? Allora iniziamo con quello di Stef Ragazzi guardate che schifo E' disgustoso Non lo proverò mai più E dai Odisseo E' un po' bruciato Non esagerare No Stas non lo assaggio Ora proverò quello di Raffario C'è l'orio ragazzi E ora lo metto nel cacao Guardate E' ottimo amici Questo Raffario mi ricorda i miei vecchi tempi E' buono Sì Odisseo è vero ti ricordi di tutto Vero ragazzo E ora quello di Demont E lo trovo un po' strano Ora versiamo il latte caldo In un bicchiere E poi gettiamo un uomo all'interno Lo prendiamo E lo mettiamo dentro Oh ragazzi avete visto cosa è diventato Ragazzi è fantastico E allora ti bon vince sicuramente Sì amici lo so Sì amici Amici se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Iscrivetevi E cliccate sulla campanella E ci vediamo